Buongiorno e benvenuti a questa Rasseglia Sapa, 17 agosto. Escono oggi i giornali che hanno riflettuto su questi due giorni di tragedia incredibile del Ponte Morandi, di cui abbiamo parlato anche ieri sul sito Nicola Porro e sul quale oggi i giornali ovviamente tutti quanti fanno pagine e paginate. Intanto andiamo sulla drammatica cronaca di quello che è successo, perché pare che ci siano ancora 20 dispersi, è un eufomismo parlare di dispersi dopo tre giorni, quindi il rischio è che siano ulteriori morti rispetto ai 38 già accertati. Si tratta dunque di una tragedia enorme ovviamente per le infrastrutture italiane. La stampa oggi, che è forse l'unico giornale anche per affinità ligure pievantese a mettere le vittime in primo piano, nel senso le storie delle vittime, le facce delle vittime, insomma a porre la questione in primo piano a una notizia che non mi sembra di aver letto con grande risalto sugli altri giornali e cioè che probabilmente le famiglie delle vittime non vogliono partecipare ai funerali di Stato che sono previsti per domani. Questo diciamo sul lato più umano, più tragico della vicenda e dal punto di vista invece politico e tecnico c'è da analizzare la polemica politica che è in furia dopo la tragedia ed è anche un po' se volete un po' ridicolo pensare che la politica già si arrabbi così tanto e già trovi come possiamo dire i colpevoli di questa vicenda. Qualcuno pensa in Benetton, altri pensano in PD, altri pensano a Prodi con le privatizzazioni, cioè non c'è mai, si cerca un capro espiatorio come dice Andrea Orsina oggi mi sembra sul messaggero. Il governo si divide il titolo del Corriere della Sera perché in realtà si dividono su una cosa per la quale forse avrebbero dovuto essere un pochino più attendisti, cioè sulla revoca della concessione ai Benetton della gestione delle sue 27 tratte autostradali, non soltanto della 10 dove è caduto il ponte. Di Maio è per la revoca, Salvini frena, ma la cosa incredibile è che secondo il retroscena del Corriere della Sera a frenare per la revoca è stato lo stesso ministro amico di Di Maio, cioè Toninelli e compagno di partito, il ministro dei trasporti gli ha detto guarda caro che non si può revocare questa concessione per il semplice motivo che ci sono delle leggi da rispettare e la convenzione stessa prevede tutta una serie di norme da vedere. Su questo si inserisce tutto un grande casino perché il grande casino nasce dal fatto che il premier Conte fa un consiglio dei ministri e nel consiglio dei ministri del 15 agosto che cosa dice questo genio di avvocato amministrativo che è Conte, che fino ad ora si è comportato come diceva forse Veneziani in maniera corretta senza sbagliare un corpo. E qui un colpo lo sbaglia Conte perché dice, uscito dal consiglio dei ministri, che occorre revocare le concessioni alla famiglia Benetton, cioè adesso ancora con i morti che sono lì e i dispersi che sono là esce presente il consiglio che parla di una cosa di questo tipo. Forse un po' più di prudenza avrebbe potuto caratterizzare le prime uscite di Conte, non solo di Di Maio, e non solo, dice, non si possono aspettare i tempi della giustizia. Ricraziamo molto, grazie Conte che fa l'avvocato amministrativo, però vorrei spiegarti che i tempi della giustizia noi sfigati cittadini purtroppo quando stiamo per morire, lì da un punto di vista imprenditoriale, non solo, li aspettiamo sempre, capisco che questo è un caso diverso, ma almeno prima occupiamoci di rimettere in sesto, di trovare le vittime, di curare quelli in codice rosso, di ristrutturare un ponte, di fare tutte le cose urgenti, utilizzare le risorse pubbliche per i 600 sfollati per le case da sotto, poi dopo iniziamo a vedere di che cavolo sono queste responsabilità. Ma vado avanti, perché dopo che Conte dice questa cosa il blog di Grillo dice aspettiamo i lavori della magistratura, perché poi bisogna un po' capire se i magistrati sono questi eroi del Movimento 5 Stelle, poi dopo non aspettiamo il lavoro della giustizia detto da Conte, insomma confligge con il DNA di quella parte. Insomma mi sembra, anche se i giornali oggi non lo notano, la stessa identica confusione che si ebbe quando Di Maio chiese l'impeachment, vi ricorderete, di Mattarella, perché non aveva fatto il governo con Savona, Ministro dell'Economia. Dopo un giorno quell'impeachment salta, dopo poche ore salta anche la revoca della concessione ai Benettoni. In questo panorama forse Salvini è quello che si comporta meglio di tutti quanti, il Ministro degli Interni ha un atteggiamento empatico nei confronti delle vittime pensiamo a loro e soprattutto ha un atteggiamento secondo me ragionevole. Salvini dice togliamo ai Benettoni che sono i concessionali delle strade, perché è banale, paghiamo i pedaggi, andiamo sulle strade porca miseria, fatemi arrivare a casa che non corrolli un ponte e Salvini dice facciamoli pagare tutto e poi discutiamo il ponte, le vittime, insomma facciamoli un mazzo così economico che è il ragionamento sano che può fare un controllore come è lo Stato. Corriere della Sera e Repubblica fanno una serie di domande poi qual era il ruolo di questa concessione, la revoca non si può evidentemente fare, quello che si può fare è molte penalità e tante altre operazioni. Eccolo qua, mi dispiace Nicola se è passato dalla parte del nemico non mi piace più. E vai, sono contento di non piacere a uno che dice che io sono passato dalla parte del nemico. Fantastico, questo è il genio delle persone che mi seguono. Sei passato dalla parte del nemico. Io sono passato dalla persona del nemico perché leggo i giornali e interpreto i giornali. Lo facevo ieri e lo faccio oggi. A differenza vostra non mi faccio prendere dal sangue al cervello, quando mi prendo lo vedete sempre, come lo faccio con quel cretino che dice la parte del nemico, come se il mondo fosse fatti da nemici. Qua c'è un ponte crollato, 38 morti, 20 dispersi e la parte del nemico quale cazzo sarebbe? Quale sarebbe? Quale sarebbe? Porca puttana. I Benetton li ho attaccati quando voi stavate lì a tutti a leccargli il sedere, Benetton, perché vi facevano le cose politicamente corrette. Sto dicendo semplicemente, come dice Salvini, ABC, facciamoli pagare e poi vediamo quant'è la loro responsabilità. Ma niente, non si può fare. Sei passato dalla parte del nemico, sta cretina o sto cretino, ma non mi piace più e chi se ne frega. Salvini, l'altra cosa che dice, geniale, secondo me mi aspetto un impegno finanziario importantissimo per Genova, perché è quello che conta. Oggi ci sono una serie di interviste ovunque in cui queste interviste si dice quale sarà il casino che ci sarà dal punto di vista logistico, economico e personale per chi abita a Genova divisa in due. Toti dice da qualche parte 130 km in più per attraversarla, quelli che si occupano dei due porti, quelli di Savona e quello di Genova, dicono che sarà un disastro. Pensate che 15.000 auto al giorno sbarcano in questi porti dai traghetti e pensate che soltanto di IVA ed accise, questi due porti girano 6 miliardi di euro. Toscani si fa intervistare. Allora, io voglio tanto bene a tutti quanti, però il principio che Toscani oggi deve stare zitto, zitto. Soprattutto io sentire Toscani che mi dice stavo proprio per prendere quel ponte e per caso sono riuscito a sfuggire alla morte, più o meno questo dice, perché se l'avesse preso il rischio era quello. Ecco, io penso che forse ci sono dei momenti in cui Toscani dovrebbe tacere, dovrebbe stare zitto, dovrebbe essere silenzioso, dovrebbe forse bere un po' di meno e rispettare tutto. Non perché Toscani abbia fatto nulla, ma perché capisce perfettamente di essere uno dei simboli di quella United Colors of Benetton che oggi io non penso che gli si debba revocare la concessione, ma che qualche problemino oggi si dovrebbe porre, no? Oppure no? Quali le regole del contratto le trovate sul Corriere e su Repubblica? Vediamo sull'altro, ecco, le polemiche politiche non si limitano soltanto al governo, cioè a Di Maio e a Salvini, diciamo che poi non è una grande polemica, sono sfumature da diversi, ma sì, i limiti ci sono nei giornali, diciamo, politici, Travaglio e Belpietro sulla stessa linea, dicono i Benetton, sono il male assoluto e sono soprattutto stati supportati sempre dalla sinistra e questa è una delle polemiche che oggi trovate sui giornali e ancora anche in questo caso facciamo un passo avanti, come se ci fosse una responsabilità morale, adesso ho passato col nemico, con Prodi, con Renzi, proprio con loro sono passato, complimenti, questi cretini che ancora pensano, vabbè, e l'altra parte invece di polemica dei giornali è quella del Movimento 5 Stelle e della sua vicinanza al Movimento No Gronda che sosteneva, e è stata questa sua cosa che ieri tutti noi dicevate, ah ma che cazzo dici, ma si tratta di una fake news? No, non è una fake news, il Movimento No Gronda diceva che era una favoletta la caduta di quel ponte e il fatto che fosse una favoletta è finita sul sito del Movimento 5 Stelle ed è finita in una discussione, ma il punto fondamentale è che il responsabile di questo Movimento No Gronda non è Babbo Natale, ma è un signore cazzo che era un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Genova, il quale fa questo comunicato, questo comunicato va nel Movimento 5 Stelle e Crimi ieri dice, ah avete strumentalizzato, allora se noi stiamo strumentalizzando la questione del No Gronda che dice che era una favoletta la caduta del Ponte Morandi, beh forse qualcun altro strumentalizza Prodi, Renzi, Berlusconi e San Giuseppe di quello che è avvenuto, anche perché il responsabile del Movimento No Gronda era accanto, braccetto con Grillo, con Grillo, sapete chi è Grillo? Quello che dice che devono essere vomitati i giornalisti dopo essere mangiati, il leader del Movimento 5 Stelle e Grillo cosa diceva al circo massimo nel 2014 con il consigliere No Gronda del Movimento 5 Stelle che avrebbe mandato l'esercito per evitare che si facesse un passante rispetto al ponte che è crollato ieri, hanno responsabilità della caduta del ponte? No, nessuna, perché lo Stato, come dice Galli della Loggia in un pezzo, oggi deve fare lo Stato, si deve occupare e dare avanti a fare per la sua via, burlando, non hanno voluto fare il passante nel 1995 come c'è scritto, il comitato di No Gronda non hanno voluto fare il passante, ma la sostanza è che comunque questo punto è caduto e ci sono 38 persone almeno che ci sono rimaste sotto. Poi Repubblica individua il motivo per il quale è caduto il ponte, unico giornale che in prima pagina titola è colpa dei tiranti, Repubblica dunque dice che hanno ceduto gli stralli e spiega tutti quanti i motivi per i quali non avrebbe tenuto il ponte. La cosa che io vi segnalo, però, è prima di parlare, come ha fatto ieri Di Maio che ha detto che per esempio i Benetton hanno gli utili all'estero, mentre invece è totalmente falso, perché la loro società è domiciliata a Roma, a differenza di tante altre società, questo lo faccio non per difendere i Benetton, ma per capire come attaccarli meglio, è tutto semplice. Se tu dici che i Benetton fanno gli utili all'estero e che non pagano le tasse in Italia, tu sei un cretino, perché nel bilancio si capisce che invece il Sintonia Spa è domiciliata a Roma e sugli utili paga in Italia. Allora quello che voglio dire è semplicemente conoscere per deliberare, così dopo non dici come dice Conte, revochiamo e poi dopo due ore te lo devi rimangiare, come se fossi connivente con i Benetton, non inizi a capire, come ha detto Salvini, ieri Salvini ha detto in una dichiarazione, non me ne frega niente in questo momento le colpe di Prodi, di Renzi eccetera, cerchiamo di togliere più soldi possibili ai Benetton e allora bisogna ragionare sui numeri, l'unica che lo fa in maniera seria oggi è Laura Serafini sulla sole 24 ore, bisognerebbe prendere il suo pezzo e metterlo qua in faccia a tutti quanti i geni del blog, di internet, metto gli occhiali e vi dico cosa succede. In 16 anni i Benetton grazie alle loro 27 tratte, non solo quella di Genova, 27 tratte fatturano diciamo il 50% in Italia e il 50% all'estero di autostrade, in Italia fatturano 43,7 miliardi, cioè sono i pedaggi che italiani e stranieri pagano i Benetton, loro spendono in manutenzione 5 miliardi, 14 in ampliamenti, migliorie e nuove opere, 4 miliardi che danno come ulteriore tassa all'ANAS che non gli ha concesso le autostrade ma è una vecchia regola per la quale l'ANAS si becca 4 miliardi dai Benetton, non dai Benetton, dalla società autostrade che è controllata a Benetton, 7 miliardi il costo del lavoro, beh ve lo faccio breve, tolti ai 43,7 miliardi dei ricavi dei pedaggi, quello che loro spendono tra manutenzioni, costo del lavoro, ANAS eccetera, rimangono 9 miliardi che è il cosiddetto utile lordo, all'utile lordo bisogna togliere gli oneri finanziari perché loro stessi si indebitarono per comprare le autostrade nel 2002 e arrivano a 6,7 miliardi e arrivano in 16 anni, la società autostrade in 16 anni secondo quello, ecco la Letizia, bilancio falso come tutti, vabbè allora è inutile, è fantastico, bilancio falso come tutti, Letizia dai, bilancio falso come tutti, allora la Laura se ne finì noi è tutto falso, c'avete ragione tu, sapete che fate, prendete i forconi e andate a prendere i Benetton e tutti quanti quelli come lui, comunque se posso finire il ragionamento e lo finisco, il bilancio è falso come tutti e comunque sia dai 43 miliardi lordi di royalty si arriva a profitti netti di 2,1 miliardi, 130 milioni all'anno, il che vuol dire che in questi 16 anni Benetton si sono messi in tasca 600 milioni di Euro, giusto, sbagliato, saranno i bilanci falsi, la Consob indagherà, siamo tutti un magna magna, Consob, finanza, giornalisti, tutti uniti, comunque questi sono i numeri e chi ha la capacità di dire che siano falsi lo vada a denunciare a un magistrato che spero non sia corrotto anche lui e che quindi indagherà su tutti, allora oggi direi che sui giornali questo è tutto, il fatto qua dice che il centro-sinistra e i sinistra e i vari cattomunisti sono il male di questo paese, adesso figurati se non sono d'accordo, nella mia ignoranza, vista la mancata sorveglianza non si può revocare la concessione senza pagare? No, non si può purtroppo, che popolo di urlitori del cavolo che siamo e sono d'accordo anch'io, prendiamo i forconi a qualcuno dice, Anna, se hanno stata per l'Italia e a SPA speculano i danni del paese sulla sicurezza e sulla vita. Benissimo, siamo tutti d'accordo che quello che c'è scritto sui giornali è un'enorme e gigantesca falsità, come quello che c'è scritto sui bilanci del Benetton e su tutte le manutenzioni che non sono state fatte, l'unica verità che c'è è che sono morte 40 persone e qua ci stiamo ancora dividendo politicamente sinistra, destra, alti, bassi, crimi, gronda, no gronda, quello che è successo come dice Nordio oggi è la cerca all'untore e prima di cercare invece quelli che sono ancora lì sotto le macerie, condividete se vi piace, ciao a tutti.